Se batti questo gioco sei un genio Allora, vediamo un pochettino cosa ci fa fare Io ti dico che questo qui è il gioco della mia importanza Bro, abbiamo le domande di arte per iniziare Cioè io, raga, l'arte sono proprio negato Perdiamo Eccolo Chi fece l'opera a querello astratto, bro, ma che ne so Bro, ma si sa che è Kandinsky Sì, allora, sei davvero Kandinsky Vieni qui Era da fare, era da fare A caso, perché i primi tre, sai come ho fatto? I primi tre erano famosi L'ultimo chi se lo caga ed è l'ultimo Assurdo, dai Kandinsky, però è conosciuto, un minimo Tanto, di nuovo arte No, rega, basta Lo stile grecolo Lo stile greco più semplice per decorare le colonne Aspetta Secondo me il corinzio Io ho sentito tanto corinzio Ionico, fra, sono abbastanza sicuro Sei sicuro? Abbastanza Se sbagli, se sbagli No, ok Se sbagli ti arriva uno schiaffo Ok E fra, ho capito Ma pure tu hai sbagliato Cosa vuol dire, se sbagli te arriva uno schiaffo Adesso giochiamo contro Terrano, va giù, sì Ma è un tipo vero questo? Sì Ok E vediamo un pochettino No, rega, no, è una maledizione No, rega, è una maledizione Oh, lo so, lo so, lo so La notte stellata E la notte stellata Mamma mia Chi è il top dell'arte? Figa Sono nato a tutti musei E tutti, tutti in arte Sono un fenomeno Domanda noiosissima, basta Bro, sono abbastanza sicuro che ora ci esce la corona Io spero, ci spero, ci spero, ci spero Sì Mamma mia, fra, ma che oggi sei una bestia, eh Sì, sì, sì Che oggi sei una bestia Ok, posso scegliere quello che voglio Io ti dico geografia, fra, perché io sono forte Geografia Gioca Machu Picchu è in Perù Ok Te l'ho detto che sono forte Ci sta, ci sta, ci sta Vai Sbloccato Tito Sì, non venivo l'ora Girare Cioè, il nostro obiettivo praticamente è accumulare tutti Geografia, scienza Esatto Se indoviniamo, vinciamo Storia Ah, ok Storia Io non sono bravo Da chi è stato costruito il colosso di Rodi Egizi, Greci Allora, sicuramente o Greci Greci O Greci o Persiani Anche Babilonesi, allora No, Babilonesi è troppo vecchio, non potevano fare Persiani, direi, allora O Greci No, però, esatto, perché i Greci Muoviti, muoviti Mamma mia Muoviti, muoviti, due secondi Due Regà, il tempo È a tempo C'è il tempo Sì, è a tempo Mamma mia, raga Raga, sta salendo l'ozio Ok, 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 ok No, basta, basta No, tanto ormai ci perseguita Basta Basilica, oddio Frate, allora Ravenna, leviamola Firenze Io dico Pisa 16 Pisa Me la sento Non so perché Sei sicuro? Sì, me la sento Era Ravenna, figa Ravenna, togliamo la prima roba che ho detto Vabbè, ok, prendiamo Eh, devo pagare Ma mai nella vita Che ha dipinto L'amorino dormiente Conservato a Firenze In Palazzo Pitti Ecco bro Allora 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 A Firenze sarà Caravaggio Così Chi è un fenomeno Ma tu sei esperto di arte Bro, chiaro, chiaro, chiaro Ok, ok Qui stiamo scoprendo delle qualità Hai visto, hai visto Stiamo giocando Oh, scienze No, storia no Storia no C'è ancora giusti eh A quale civiltà partiene questa Regà, sono gli egizi Fermo No, gli egizi c'hanno le piramidi Questo qui E Sumeri Te sei sicuro? Sì No, però Sumeri e Babilonesi stiamo lì Continua per 300 bro Lo devo comprare Ti rendi conto che stiamo spendendo soldi per voi E voi ancora non vi siete iscritti Sto compilando i miei dati Ma a parte gli scherzi raga Perché siamo quasi arrivati a un milione di iscritti Dai, fateci arrivare entro fine anno Sono serio Bro, sei uno scioppone Come si chiamava lo statuto Che rendeva il cattolicesimo La religione di stato E va Aspetta, aspetta Albertino, Albertino Sicuro Costantino No, mettiamola Aspetta Facciamo doppia chance Metti Albertino e poi Costantino Albertino No, Melfi Ma fra Ma porco diaz Dai, ho appena speso 3 euro Non c'ho già i lingotti Oh, cavolo amico Adesso, rega È il momento È il momento di concentrarsi Non è assolutamente la terza volta Che sfidiamo un altro avversario No Allora Ora esce la corona fra Broder, dobbiamo vincere Ok, scienza top Qui non possiamo sbagliare Top Quando arriva la luce della stella più lontana dalla Terra Eh, ma io che cazzo ne so qual è la stella più lontana Aspetta, aspetta Quanti anni dopo Io ti direi Sicuro miliardi Eh, anche perché sono tutti O è 19 o è 12 19, bro Cavolo Cavolo Dai, rega, assurdo Ma che domande Bro, ma che domande Cioè, dai, no Queste sono domande assurde, raga No, a parte gli scherzi Io non so neanche qual è la stella più lontana dalla Terra E poi, scusami Non sarà mai la più lontana È sole Grande, bro Quanto ci mette la luce dal sole? Dai, vediamo se la sai Un secondo e mezzo Otto minuti Un secondo e mezzo Inventatissimo Oh, oh, finalmente Allora, ora non possiamo sbagliare Geografia, bro Sport però non l'abbiamo mai fatto Bro, io sport però faccio schifo, te lo dico Giochiamocela Mamma mia, dai, ragazzi C'è la geografia lì Eccolo Quale di questi sportivi non è uno Federica Pellegrini Lui, sei, è il top bro Perché Dai, obiettivamente Allora, abbiamo sbloccato sport Fra, ora non si sbaglia più Dobbiamo farle tutte consecutive Raga, vogliamo la vostra energia Alzate tutti le mani Aiutateci Lui mi mangiano dietro la fotografica Ok Cadono tutti i cani Ok, scienze, scienze, scienze Jack Russell è una particolare di cane Il mio cane è un Jack Russell Ok Però, bro Non veloce Eh, bro, però Questo è proprio sicuro C'è c'è il cane che è un Jack Russell Ok, con calma Questa era un problema No, cos'è? Ah, ok No, però non so niente neanche di cinema Qual è il film del 1900? Lo sapevo Sarà il mago di O No, è rip... Aspetta È il mago di Oz È il mago di Oz Sicurissimo Sì Lo sappiamo Il Pantheon È il Pantheon Bro, è il Pantheon Ok Cioè, abbiamo vissuto a Roma Noi abbiamo vissuto per un anno a Roma Solo per rispondere a questa questione Esatto Esatto Ok, 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 ok Geografia Geografia, dai Eh, lo so Pompei No, Ercolano Ercolano Era Pompei Porca Vabbè, vabbè, abbiamo i soldi Abbiamo i soldi Abbiamo i soldi Dove si trova Rimini? Dove si trova Rimini? Dove si trova Rimini? Si sono nato a Rimini Prima è uscita la cosa campana E poi la... No, Fred, assurdo La cosa campana con me La cosa di Rimini con lui Cioè, raga, assurdo Io sono di Rimini E lui di Salerno Assurdo Oddio, oddio È il karma È il karma È dalla nostra parte Vuol dire che dobbiamo vincere Vuol dire che dobbiamo vincere No Storia No, storia no Storia no, rega No, bro, però io mi sguardo Eccolo Sicuramente è Muhammad Yasser Arafat Chi è il fondatore? Te dici? Me lo sento, bro Era Muhammad Lo sapevo Lo sapevo Si chiamano tutti Muhammad L'abbiamo fatto con i tassisti A te non c'eri Noi fermavamo Tutti i tassisti A Sharmeshiki Si chiamano tutti Muhammad Cosa ottieni mescolando Due colori primari? Un colore secondario Si, per forza Quando si respira L'aria che buttiamo fuori È composta principalmente Da anidride carbonica Si, si Ok Quando ci fu la conferenza Di Yalta Roosevelt e Stalin Lo so Nel 46 Allora, è 46 sicuro Perché febbraio Febbraio 45 Bro, è alla fine Della prima guerra mondiale Bro, è vero Seconda guerra mondiale Fra, ci dobbiamo concentrare di più Si Cos'è il sombrero? Sei uno scioppone No, non ho scioppato Il sombrero è una cosa Cosa stavi per dire, bro? Credevo fosse una cosa di cazzo Vabbè Questo si chiama il partito politico Di Marine La Pen Raga, ma che ne so Aspetta, aspetta Socialista La Repubblica e Mark Eh, vabbè Non lo sapevo Non ne avevo idea Bro, ma sono difficili Difficilissimi, bro Ne dobbiamo far 5, dai Chi è l'imprenditore Potrebbe Harry Ford Bello Bello Come si scrive il nome di Messi? Lionel Ok Chi è questo? Questo è Martino Markets Ok Com'è conosciuto lo sport Come popolarmente Lo sport è scienza Scacchi Ah, ok, giusto Scacchi Giusto Ok Ok, l'ultima Questo qui è un bassotto Sono stanco perché Ben 12.000 per un Di bassotto Yes, bro Parlacce censurati in rec, bro Sono la cosa più bella Fantastico Sfida io contro Cazzo Alla meglio delle tre Allora Una la faccio io Vai, fatto io Parti te Vai Mi hai spinnato tu al posto mio, però Storia, no Storia, no Sì, godo Ok, godo Gordo come un rizzo Chi è il personaggio nella foto? Questo qui in italiano Bro Sono tutti italiani Ah, è craxi Che cu- No, vabbè No, vabbè Assurdo Ok, un punto tuo Un punto tuo Alla meglio delle tre, eh Adesso faccio io Eh sì, fra Distruggimi la postazione, va bene Scienza, che fortuna Che fortuna Però potrebbe essere Maddo Eh, raga Io lo so Secondo me è un cocker No No 1-0 Ok, ok Vai Vai che mi esce la corona Vai che mi esce la corona Cinema Godo un po' godo Un po' godo È tosta, bro Un po' godo È tosta Chi suona Albanero Aspetta, Albanero Io lo so, io lo so Lucio, Battisti È lei No Sei 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 Che fai a dire Albano Albano Ho visto Romina E subito ho pensato ad Albano Per questo Ok, ok Oddio No No 2-0 Se sbagli questo ho vinto Oddio Twitter, rega Quando è stato fondato Twitter Dai, ma che c***o ne so Però secondo me è 2004 2006 Let's go 2-0 A tavolino No, però aspetta Potrei recuperare di brutto Comunque alla meglio delle tre Se è 2-0 si vince Ah, si vince? Vabbè, vabbè, vabbè Geografia Dai, questo la volevo io Quale tra questi paesi Ha lo stesso nome di un monte Al suo interno? Io ti direi No, Kenya In Kenya Se è Giappone Ma dove? Ma dove c'è la competizione? Iscrivetevi No, ragazzi Io me ne vado Ma che c***o Questo fa casi Dove gliela Porte misteriose Mi piace Non so cosa c'è Mi piace, non lo so Cosa devo fare? Riunendo il gruppo Ah, dobbiamo giocare contro altri Altre persone Più persone Sono tutti italiani Come scrivere il numero 4 Gli antichi romani Così Sì Ok Ma è a tempo? E si raccolgono Clicca Ma perché stiamo aspettando Le risposte degli altri E sono arrivati Ma guarda quelli lì Che hanno sbagliato Io sono il primo Siamo i primi Ok Quindi sto spaccando Qual è il costume indossato Dalle Tutù Tutù, muoviti Ok C'era un secondo rimanente Ah, un secondo Abbiamo il tempo Ah, non lo sapevo Non lo sapevo Ma chi sono quelli lì Che hanno sbagliato? Come fai a sbagliare? Non lo so No, tutù Onesto non lo sapevo neanch'io Questo è un operativo Di casa Microsoft Windows Bella bro Qui ribattiamo tutti Dai, qui Regà Abbiamo bisogno Della competizione A giocare contro tante persone Cos'è Fortran bro? Quale continente rappresenta Il cerchio nero Le Olimpiadi? Sì, abbiamo risposto giusto Regà Questa qui è molto razzista Come risposta Eh, vabbè Però, obiettivamente Può mai essere Europa? No bro Se non è Africa Ci rimango male Solo noi No bro Era l'ultima Sì Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Ne valsa la pena E sì che ne valsa la pena Bro, non c'è capito niente Ma siamo dei fenomeni Sì Sì, amico